L'Alta via dei Parchi è un percorso sul crinale appenninico di più di 500 chilometri lungo lo spartiacque tra la regione Emilia Romagna e Toscana. Lungo questo percorso abbiamo la possibilità di soggiornare nei vari rifugi oppure di riposare e godere di maggior relax nei borghi e nei paesini termali, inclusi nel circuito termale dell'Emilia Romagna. What I think is unique of Emilia Romagna is the amount of different landscapes that you go through in such a compact region, so biking for a few days you can see very different terrains in terms of altitude and flora and fauna and sceneries. L'esperienza di questo press trip è stata inaspettata perché avevo in mente di trovare cose completamente diverse, un terreno completamente diverso, invece ho trovato un terreno quasi ideale per una gara da. Auf der Kante an den Bergen zu fahren ist natürlich der Trauma eines jeden Radfahrers, wenn man einfach so nichts mehr um sich herum hat, nur noch den Trail und links und rechts geht es stellbar ab, man hat eine perfekte Aussicht und das ist das Interessante hier, dass es einfach sehr oft möglich ist und auch nicht mit irgendwie zwei Stunden Tragetour verbunden ist, automatisch. Atemberaubend, erlebnisreich und spaßig. Faticosa, veloce e cazzuta. Ad ogni fine etapa i concorrenti avranno modo di interagire con la comunità in moltissimi modi, sicuramente l'Appennino non fa solo da sfondo alla gara, ma è la protagonista.